Anche i dipendenti della provincia potranno donare un euro al mese al fondo welfare contrattenuta diretta in busta paga. Dopo l'accordo con le associazioni di categoria per applicare contributo su base volontaria nelle aziende, anche chi ha costruito insieme ai sindacati il fondo stesso, ovvero Palazzo Piloni, sblocca questa possibilità per i propri lavoratori. Un piccolo gesto ma carico di significato anche perché sono stati propri dipendenti di Palazzo Piloni a chiederci di partecipare a questa forma di solidarietà, commenta il presidente Roberto Padrin. Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che sta attraversando il nostro territorio. Un euro al mese, il costo di un caffè al bar e una goccia, ma tante gocce insieme formano il mare. Intanto c'è la possibilità di apprezzare i primi risultati nel settore privato. A poche settimane dalla firma dell'accordo con le associazioni di categoria sono già diverse le adesioni dei lavoratori dell'industria, commenta la presidente del fondo welfare Francesca De Biasi. Sono convinta che saranno diverse anche le adesioni da parte dei dipendenti della provincia. La montagna, con la sua durezza, ci insegna che nessuno si salva da solo.